Un minuto sopra, noi lo avevamo detto, è brutto dirlo, è brutto dirlo, ma è così, noi per coerenza nei confronti di quello che abbiamo proposto sempre per l'assumamento di questi soggetti, io dico noi perché come è bella faccio, io ho fatto da quanti stati che ci sono documenti firmati nei quali si chiede l'annullamento, l'Udc, la maggioranza interna, l'opposizione, ha chiesto di votare questi dirigenti, noi per coerenza nei confronti di questi documenti non conosciamo, io come consigliere, anche il proprio Stato, però anche il proprio Stato, non conosciamo di evitare, di evitare, di votare per valutare. Noi abbiamo visto che la maggioranza, ovviamente, si presenta che la maggioranza venga cosciente, che all'interno stesso di questa maggioranza, c'è stata una parte che ha ritenuto portare, opportuno, far presente l'indexistibilità di un determinato comportamento. Noi ovviamente applaudiamo, nel senso di dire, bene che siete tornati a finiti consigli, è brutto cercare di traire la paternità di determinati comportamenti, ma se noi, già dal treno di sviluppo, abbiamo detto che i dirigenti non si potevano fare, non si potevano fare, non si potevano fare, non si potevano fare, ma a questo punto non possiamo votare per questa domanda, e quindi noi potremo fare, che finalmente, perché il comune della soia, in regola, con quella che è la normativa nazionale, è stato possibilmente sprechi, che possono essere riutilizzati per favorire la mente preoccupazionale, le politiche sociale, che sono state così trattate anche nel documento dell'equipio di Milano, e questo, consigliere Polizio, vota un favore del Parlamento. Io voglio, come le dici dal canale, sono parecchi, quello che si potevano fare, nei ris Eduardo e ми ricordiamo ai risri, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.